La guardavo negli occhi e vedevo quel lampo di animalità che io avevo gradatamente perso. Avevo pensato di metterle il velo. Scherzo! Anzi, l'anno scorso ero a Hong Kong per un convegno e sono uscito la mattina presto alle 6 e mezza. Mi sono diretto verso il quartiere di Sam Shatsui, dove c'è la famosa Nathan Road. Hong Kong è come New York, solo che ci sono 7 milioni di cinesi. Ho provato un'emozione fortissima ad essere l'unica scimmia in mezzo a tutti quei cinesi. A dire il vero, la percentuale di DNA in comune tra l'uomo e la scimmia, come saprà, è del 97%. Il 3% di differenza risulta poi ben poca cosa a giustificare due specie differenti. Beh, anche a pensarci bene il 50% in comune tra l'uomo e la banana è tutto altro che poco. Oh, stress!